Bene amici grossisti, oggi testeremo una vera e propria chicca, il nuovo cronometro GPS dell'AIM, il solo. Come dice il nome, questo cronometro può funzionare da solo, infatti grazie alla tecnologia GPS non siamo più vincolati a torretta a bordo pista o a pulsanti sul manubrio per poter prendere i nostri tempi sul giro. Vediamo cosa contiene la confezione. L'AIM insieme al cronometro vero e proprio ci fornisce innanzitutto un manuale in italiano davvero ben fatto, con istruzioni passo passo e foto a colori. Poi ci fornisce il cd con il software Race Studio 2, software grazie al quale riusciamo a scaricare ed analizzare i dati acquisiti da solo. L'AIM ci fa anche sapere che Race Studio 2 è in continua evoluzione, quindi sarà possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti direttamente dal sito dell'AIM. Abbiamo poi l'adattatore per caricare solo da muro, il cavo per l'acquisizione dei dati e lo scarico dei dati, il cavo per caricarlo in auto e la staffa per il montaggio. Ovviamente, in base al nostro tipo di manubrio, l'AIM ci fornirà il supporto adatto per manubri con e senza traversino. Veniamo un po' alle caratteristiche. Lo schermo di sole è da 128x64 pixel, retroilluminato, che anche con luce diretta del sole, comunque riesce a dare una ottima leggibilità. Quindi non ci sono mai problemi di scarsa visibilità né con sole né con poca luce, i dati sono sempre ben leggibili. I dati che visualizza sono tempo sul giro, giro previsto, calcolato in basso i giri precedenti, differenza dal best lap e best lap. Oltre a questo, solo memorizza anche altri dati, come velocità, accelerazione, frenata, che riusciamo a scaricare insieme al tracciato GPS sul computer, grazie al software che vi ho detto prima. Solo è molto molto preciso, perché utilizza in media un 6-8 satelliti per localizzare la propria posizione 10 volte al secondo. E' anche semplice da utilizzare. Appena fatta la prima accensione, in quale dovremo impostare ovviamente i dati quali date ora o migli o chilometri, basterà andare in pista, nel crossodromo che ci interessa, che è dove vogliamo girare, e posizionare il punto di inizio della partenza e dell'arrivo. Ovvero, non necessariamente il punto dove è fisicamente l'arrivo della pista vera e propria. Ma un punto dove riusciamo tranquillamente a buttare un occhio sullo schermo, quindi riusciamo a controllare il tempo fatto. Una volta andati su quel punto della pista con solo in mano, impostiamo il punto del traguardo. Ora ci spostiamo in pista per la prova dinamica. Ora ci spostiamo in pista per la prova dinamica. Ora ci spostiamo in pista per la prova dinamica. Ora ci spostiamo in pista per la prova dinamica. Ora ci spostiamo in pista per la prova dinamica. Ora ci spostiamo in pista per la prova dinamica. Ora ci spostiamo in pista per la prova modalità. Questa è fatta Valeria, ha fatto tre giri e c'è i termini